Tutte le regole del distanziamento sociale, nonché quelle adottate per l'igienizzazione, dovranno essere utilizzate con attenzione, specialmente perché sono luoghi che prevedono la fruizione di molte persone. Dal 15 giugno si potrà infatti tornare a teatro, nelle sale da concerto e al cinema. Come? Intanto i posti a sedere saranno preassegnati e distanziati, con almeno un metro fra uno spettatore e l'altro, e se saranno all'aperto non potranno parteciparvi più di mille persone. La soglia scende a 200 persone per gli spettacoli al chiuso. Distanziamento tra gli utenti, ma anche tra gli artisti, misurazione della febbre e amaestranze pubblico, con divieto di partecipazione, per chi ha più di 37 gradi e mezzo di febbre. Non poteva mancare l'uso obbligatorio della mascherina durante lo spettacolo e quindi niente vendita di cibo. Le regole sono fissate in uno degli allegati al DCPM firmato dal Premier Conte e prevedono, tra l'altro, dove è possibile, l'uso di biglietti elettronici e limitazione dell'uso del contante, pulizia dei locali, anche tra uno spettacolo e l'altro, mantenimento delle distanze personali anche nell'accesso ai servizi igienici. Si richiede un'adeguata reazione naturale, ricambio d'aria e ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. Viene previsto, infine, anche l'utilizzo della segnaletica per far rispettare la distanza fisica di almeno un metro anche nelle biglietterie e gli sportelli informativi, nonché all'esterno dei luoghi dove si svolgono gli spettacoli.